Ti va a votare, qualcuno ha deciso di non andare a votare, in altri paesi non puoi decidere di non andare a votare, in Iran, ma anche dai tuoi amici russi, dai tuoi amici Putin, da Berlusconi, poi parleremo, mi auguro, comunque hai censurato Berlusconi, quindi hai censurato Berlusconi, perché è tuo amichetto. No, 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 che amichetti, non ho amichetti, allora, è più amichetto tuo che mio Berlusconi, allora, Berlusconi su Zelensky, le frasi contestate di Berlusconi, non sarei mai andato a parlare con Zelensky, dunque frecciata la meloni, devastazione, strage di soldati, bastava che cessasse, insomma una follia di Berlusconi, vai. Io a parlare con Zelensky, se fossi stato Presidente del Consiglio non ci sarei mai andato, perché come sapete stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage di suoi soldati e di suoi civili, bastava che lui cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe avvenuto, quindi io giudico molto, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore. Amica mio, questo signore, questo signore, di solito si utilizza la parola, l'espressione questo signore, tu dici che dirà Brindisi adesso, cosa dirà Brindisi adesso? No, non dirà nulla secondo me, semplicemente non dirà nulla, semplicemente non dirà nulla, anche perché Tajani, che mi risulta essere l'ottimo ministro degli esteri, subito si è affrettato a dire no, 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 siamo con la nato, mettetevi d'accordo, mettetevi d'accordo. Il presidente americano dovrebbe prenderti Zelensky e dirà a tua disposizione, dopo la fine della guerra, un piano Marshall per distruire l'Ucraina, un piano Marshall di 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 miliardi di dollari, a una condizione che tu domani, c'è stato il fuoco, anche perché noi da domani non ci daremo più dollari e non ci daremo più armi. Allora, la cosa incredibile è che le posizioni di Berlusconi vengono sposate per esempio dal signor Vauro, io però mi farei due domande, se fossi in Berlusconi due domande me le farei, è vero che molti italiani non sopportano Zelensky, dunque Berlusconi per l'ennesima volta cerca di intercettare la maggioranza degli italiani. Non sopportano la libertà che Zelensky sta facendo per la libertà. A molti italiani questo Zelensky sta sui coglioni, che ti devo dire? A molti italiani non vogliono neanche pagare tasse, chi vuol dire questo? Senti Mauro, senti Mauro su Berlusconi. Se fosse qui Silvio Berlusconi, io bacerei in bocca a Silvio Berlusconi, perché ha detto una sacrosanta verità. Non so se è da alcuna infuggita, non so per quale motivo, per i suoi affari con Putin. Ha detto la sacrosanta verità su questa guerra drammatica, su questa guerra tragica. Ha detto che c'è un invasore, certamente Putin, cattivissimo, crudele da condannare, ma che c'è anche un pupazzo presidente che sta facendo massacrare il suo popolo per gli interessi degli Stati Uniti. E noi li andiamo dietro come pecoroni. Un pupazzo presidente che sta facendo massacrare il suo popolo e noi dietro come pecoroni. Vauro come Berlusconi, diciamo la verità. Vauro come Berlusconi, tu me l'hai chiesto prima della trasmissione, ne parlerà Mario Giordano secondo te? Secondo te Mario Giordano, me l'hai chiesto tu, prima della trasmissione, me l'hai chiesto a Mario Giordano domani, manderai in onda Berlusconi? Manderai in onda queste frasi di Berlusconi? Ma certo che no. Abbi il coraggio di dirgli in faccia Giordano. O forse le manderà queste frasi. No, probabilmente le manderà perché è la stessa cosa che pensa lui. C'è da sempre Mario Giordano e quindi prova a essere, anzi che le manderà perché conferma la sua linea editoriale. Fra pochissimo capezzone su Sanremo. Fra pochissimo capezzone su Sanremo. Fermi tutti, fermi tutti. La Zanzara.